Ci troviamo a Caltanissetta dal TEA Spose. Le cerimonie al momento sono sospese, o meglio si ci può sposare, però non si può invitare nessuno. I ricevimenti non si possono fare perché i ristoranti sono chiusi, quindi alla fine è come se fossero state sospese anche le cerimonie. E per voi che vendete abiti da sposa è un grosso guaio? Sì, è un grandissimo guaio perché completamente siamo fermi. Da quando c'è stato il nuovo DPCM le spose proprio si sono arrese. Logicamente loro sono devastati perché non hanno più l'idea di quando possono coronare il loro sogno. E noi d'altronde li capiamo benissimo e cerchiamo di essere sempre vicine al loro fianco. Però il settore è in crisi, è in ginocchio e con tutto anche quello che ci circonda. Perché il mondo del wedding alla fine è un'industria, specialmente nel sud. Quindi come siamo fermi noi, visto che i matrimoni sono completamente bloccati, anche tutto l'indotto. Speriamo che comunque venga risolto al più presto. Certo, perché fermi fotografi, fermi fiorai, fermi ristoranti. Il controsenso qual è? Che hanno chiuso i ristoranti, quindi loro avranno i ristori. A voi vi hanno lasciato aperti, ma a chi vendete gli abiti se la gente non si può sposare? Sì, questo è un paradosso perché realmente... Ma non c'è neanche gente che sta venendo neanche per la scelta. Quindi magari anche con degli acconti, con le vendite potremmo andare avanti. Infatti siamo aperti giusto per essere presenti, per accendere le vetrine. Ma poi alla fine non accede nessuno nel nostro ateliere. E neanche il telefono al momento sta squillando. Da una settimana siamo tagliati fuori completamente. Anche perché c'è l'incertezza totale. Si parla di un nuovo lockdown a partire dal 15 novembre. Anche se non ci sarà un lockdown, non si sa quando riprenderanno le cerimonie. Lei però vuole essere ottimista. E ha detto io lo stesso lockdown o non lockdown voglio allestire la mia vetrina per il Natale. Sì, dunque. Il futuro è molto incerto. Sotto questo aspetto penso che sia palpabile. Quindi di matrimoni non se ne parla, ma tutte le spose a nuove date si sono fermate. Però l'idea di continuare, di essere positivi, di essere propositivi anche nel cercare di portare avanti l'attività nel modo normale, tra virgolette. Quindi con l'allestimento natalizio, con gli addobbi, con le luci, con i luminari e quant'altro. Io voglio lanciare questo messaggio che non ci dobbiamo abbattere, che comunque dobbiamo un attimino cavalcare la negatività che c'è al momento. Guardare che poi dopo ogni tempesta ritornerà il sole. È una frase fatta, però io ci credo. Quindi voglio pensare bene, voglio allestire il Natale, voglio che siano come tutti gli altri anni, né più né meno. Anzi, forse ancora più sfarzoso. Dovremmo concludere con questo bel messaggio d'ottimismo. Però le voglio fare un'altra domanda. Le cerimonie sono ferme dall'ultimo DPCM, ma quest'estate comunque avete lavorato? O comunque dopo il lockdown molto poco? Sì, si è lavorato. Siamo riusciti a fare circa il 25% del lavoro che dovevamo fare. Quindi non so se si può dire lavorare, però è stata una goccia nell'oceano, ecco, che ci ha dato un po' di respiro. Abbiamo avuto la possibilità anche di pagare i fornitori, comunque di portare avanti gli stipendi. Insomma, ci accontentiamo di quello che c'è stato. Peccato che poi a ottobre si è di nuovo richiuso. Quindi il mio pensiero va a quelle spose che dall'oggi al domani neanche i 30 invitati. Abbiamo avuto spose che sono uscite dalla chiesa e se ne sono andate a casa, perché erano stanche di slittare la data del matrimonio e che comunque volevano avere la loro vita da sposati. Quindi i veri eroi sono anche loro, soprattutto. Per questa sposa del 2020 e del 2021 che sono così combattute, che sono così dilaniate da quello che sta succedendo. Sono violentati nella cosa più bella che loro potevano avere. Il matrimonio, il sogno dei giovani, di ogni donna, di ogni ragazzo, ecco.